Signore e signori, Maurizio Crozza! Sirman, you're the band! Andrea Zalone, lo mettiamo sullo stelto! Scusate, fratelli, ma voi avete capito cosa vogliono fare questi due qui? Ma guardateli come sono felici, sembrano ricchi e jean, il ricchi e jean del riformismo, è vero? Guarda come sono in sintonia, come il sole e l'eritema, guarda che meraviglia! Cosa vogliono fare? Cosa vogliono fare? Perché volevano fare un partito unico, si sono presentati insieme alle elezioni e si sono divisi i senatori, 5 a Renzi e 4 a Calenda. Poi i due hanno litigato, ma con la nuova legge sul taglio dei parlamentari in Senato per fare un gruppo autonomo, che vuol dire soldi, uffici, segretari e rimborsi, servono almeno 6 senatori. Se Calenda vuole rompere con Renzi, ora deve iscriversi al misto con Bolelli e Frattoianni. Quindi se si dividono, basta che Renzi trovi un senatore in più e lui si becca soldi, uffici, segretari e rimborsi, invece Calenda, che rimane solo con 4, deve rinunciare al gruppo autonomo e andare nel gruppo misto con l'odiato Frattoianni, dove perde soldi, uffici, segretari e rimborsi. E voi direte, ma dove lo trova Renzi il senatore in più? Che ingenio, l'ha già trovato, cazzo. Fammi vedere, Borghi lascia il PD e passa a Italia viva. Capite il genio! Aveva già previsto tutto, aveva lasciato un vivaio dei suoi fedelissimi dentro il PD, un vivaio dentro il PD. E tutto questo già in previsione per poter tenere Calenda per le palle. Oggi questa foto è superata l'istantanea del loro rapporto attuale, è questa. Ora, guardate gli sguardi, guardate, ora io proverò a tradurre in parole l'espressione dei loro volti. Perché qui Renzi sembra che dica, ma perché pensi che te l'abbia piantato nel culo? E Calenda, me l'ha piantato nel culo in maniera seria. Dunque, i tre mestieri più pericolosi del mondo sono pulitore di vetri nei grattacieli, collaudatore di paracadute e alleato di Renzi. Guardalo, infatti il poverino ora è con le spalle al muro e cerca di salvare il salvabile. Calenda, prove di tregua dopo il divorzio da Italia Viva, Renzi non è un mostro, ho sbagliato a usare toni forti. D'altra parte il mondo va così, il diavolo fa le pentole e Calenda le compra. Grazie. Grazie. Grazie.